Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dio. Ci sono certi momenti di vita che sapevo che la vita è finita e non si sa più c'è molto in avanti. Per esempio, succedono cose che sono proprio il contrario di ciò che tu ti spietaressi. Non sa mai che la vita è finita? C'è molto fatto in avanti. Oppure succede che tu chiedi una cosa che hai voglia di arrivare fino a qui e non tu arrivi. C'è molto fatto in avanti. Oppure ti hanno dato un consiglio, non tu hai ascoltato, tu hai sbagliato, lo sanno tutti. Dio, le murmuri perché non è più vita. C'è molto fatto in avanti. Allora, parlai in avanti, alzai voi. Che è la prima cosa di fare per non stare lì tant'alunchi in situazioni che sa mai vita è finita. E, tal caso, dopo di esserti fatto aiutare, ci sono pensati che ero roba lì, dove, perché non torni a succedere più. Buona giornata e buona vita. Buona giornata. Buona giornata.